L'ennesimo rinvio stavolta alla 2024. Si è conclusa con l'ennesimo nulla di fatto, in parte prevedibile, la riunione del Consiglio di Amministrazione di Acceglieria d'Italia. Tre ore di confronto serrato non sono bastate a trovare una soluzione. Non è stato trovato un accordo tra i soci su aumento di capitale e acquisto degli asset aziendali. Si è deciso così di attendere un incontro tra i vertici degli azionisti, governo in vitali e Arsero-Mittal, che dovrebbe tenersi i primi di gennaio, forse l'otto. Sarà in quella sede, secondo quanto riferiscono fonti vicine al dossier, che si proverà a trovare una quadra in vista di una riconvocazione del CDA e di una nuova assemblea dei soci. E dovrebbe essere proprio il governo a prendere l'iniziativa una volta per tutte per dirimere la questione. I sindacati metalmeccanici, intanto, sono stati convocati a Palazzo Chigi per le ore 16 di venerdì 29 dicembre, ma il clima è tutt'altro che sereno. Pensiamo che questa situazione di stallo continui ad essere fortemente pericolosa per il futuro dell'azienda, dicono il segretario generale FIMACISL Roberto Benaglia e il segretario nazionale Valerio Dallò, che chiedono un programma chiaro che eviti perdite di tempo, ulteriori trattative e trovi invece soluzioni importanti di garanzia, come l'entrata in maggioranza dello Stato nella capitale dell'azienda. Stavolta ci sarà un solo rappresentante per sindacato, denuncia la FIMACGL con il coordinatore nazionale Siderurgia Loris Scarpa, che aggiunge, e la manifestazione della paura del governo, di affrontare gli unici che hanno avanzato a proposte concrete per evitare il fallimento.